Palestra Olimpia, la tua nuova palestra. Una struttura moderna e polifunzionale per ogni tua esigenza. Oltre alla Sala Pesi, Palestra Olimpia è ricchissima di corsi, dall'aerobica allo step, dalla ginnastica dolce allo spinning, tenuto in maniera piuttosto originale. Vi ricordiamo anche i corsi per soli bimbi. Novità del momento, il misuratore di massa grassa e magra, in modo da sapere con precisione quanti chili perdere o acquistare per arrivare in forma all'estate. Palestra Olimpia è in zona Predanieda Sud, strada 22, dietro il centro commerciale della piazzetta, a Sassano. Ampio parcheggio privato.